Una moto sportiva deve necessariamente essere super potente? A giudicare dalla nuova Yamaha YZ-FR3 la risposta potrebbe essere no. Questa lightweight punta a regalare emozioni tra curve e cordoli in virtù di quote ciclistiche agili e di un compatto bicilindrico capace di 42 cavalli, ma basterà per fare centro nel cuore degli smanittoni più incalliti? Non rimane che scoprirlo nel perché comprarla di oggi. Quanto conta lo stile? Cupolino affilato, doppio faro a led, presa d'aria centrale, piastra di sterzo alleggerita, serbatoio a cuneo, ampi sfoghi laterali sulla carena, codone slanciato. Sono tutti evidenti richiami stilistico funzionali al mondo delle super sportive Yamaha. Prima tra tutte la YZF R1M e quindi la M1 di Valentina e Vignales. Ma oltre alle sovrastrutture anche l'appil tecnico vuole fermare l'anima racing. Forcella a steli rovesciati, cerchi in lega a 5 razze ad Ypsilon e un lungo forcellone pronti a richiamare lo sguardo dell'appassionato più esigente. Ciliegine sulla torta? Beh il terminale in carbonio firmato da Krapovic, disponibile come accessorio. I semi manubri sono posizionati intelligentemente, il carico su polsi e avambracci è sempre piuttosto tollerabile ed il comfort garantito anche dopo diversi chilometri buono. L'ampia sella permette a piloti di diverse taglie di trovare la giusta posizione mentre la sua imbottitura sostenuta comunque non ha riflessi negativi sul comfort. Le pedane sono in posizione relativamente arretrata ma purtroppo molto vicine ai nostri glutei e disegnano una piega evidente delle ginocchia. Fortunatamente le svasature ampie del serbatoio permettono un inserimento davvero soddisfacente. I 780 mm da terra del piano di seduta permettono al miometro 81 di manovrare la nostra R3 con enorme facilità. Com'è la strumentazione? L'elemento trapezzodale LCD in stile MotoGP risulta leggibile e completo. Sempre visualizzabili le informazioni relative a velocità, marcia inserita, orologio, temperatura liquido e raffreddamento e livello carburante. Agendo sul pulsante alla sinistra del cruscotto è possibile invece visualizzare alternativamente le informazioni del trip computer. E il motore? Solitamente l'equazione motociclistica a car e giapponesi lega la sportività al motore quattro cilindri. In questo caso l'equazione è semplificata perché i cilindri sono due, 321 cm3, peso, dimensioni e consumi contenuti, ma tecnologia comunque evoluta. Il carattere poliedrico del cuore pulsante di questa R3 non richiede troppi chilometri per essere compreso. È capace di riprendere nei rapporti più corti con disinvoltura dai 2.500 giri, mentre in sesta sarà meglio tenerlo qualche centinaio di giri sopra per godere di una risposta pronta. Grazie alla coppia ben distribuita non si avvertono particolari variazioni nella spinta, almeno fino all'approssimarsi degli 8.000 giri, quando il sound allo scarico inizia a diventare graffiante e di slancio verrà superato il regime di potenza massima post a quota 10.750. Se il suo carattere elettrico lo rende gestibile nei contesti urbani anche con i rapporti lunghi, nella guida più sportiva si richiede l'uso frequente del cambio per poter godere delle migliori prestazioni. Questo bicilindrico parallelo è dotato di doppio albero a cam in testa, 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido e pistoni forgiati in alluminio. Coppia massima di 3 kg metro a 9.000 giri, mentre i 42 cavalli di potenza massima lo rendono idoneo alla guida con patente a 2. E allora godiamoci la sua bella voce accordata allo scarico Akrapovic. è bella da guidare se pensate che la sportività di questa Yamaha sia limitata soltanto all'estetica probabilmente dovrete ricredervi. Agile in ogni circostanza decifra istantaneamente i comandi del pilota peccato soltanto che il piacere di guida sia in parte offuscato dal setup da vera MotoGP di queste sospensioni. I 167 kg di massi in ordine di marcia sembrano ancora meno una volta in movimento grazie al bilanciamento dei pesi ripartiti quasi equamente sui due assi e dal baricentro basso. La maneggevolezza è davvero elevata alle velocità più modeste nonostante la leva offerta dai semimanubri non sia così ampia ed anche una volta alzato il ritmo si rimane stupiti dalla rapidità con la quale questa 300 sappia invertire la traiettoria. Tra le curve complice la ridotta sezione dei Dunlop Sportmax 110 all'anteriore e 140 al posteriore scende in piega velocissima e punta dritta la corda con grande naturalezza al punto da rendere sconsigliabile qualsiasi intervento di contrasto sul manubrio per non alterarne l'equilibrio. I freni prediligono i ritmi meno concitati puntando molto sulla morbidezza all'attacco e la modulabilità piuttosto che sulla potenza. La risposta del disco anteriore da 298 mm rimane un po' spugnosa ma comunque la sua gestione risulta ideale per non mettere in crisi i neofiti. La porzione di sella rialzata riservata al passeggero manda un messaggio molto chiaro questa R3 è una sportiva nell'animo e come tale è meglio di guidarla da soli e allora giù in carena gas a manetta e lei rimane sempre gestibile e comunicativa ma allora bisogna proprio soffrire per divertirsi? Datele da disegnare qualsiasi traiettoria e lei si trasformerà in un compasso mai fisica capace di tollerare correzioni a centro curva riuscirà a strapparvi un sorriso anche alla rotonda sotto casa. Una positività che trova ulteriore slancio nella facilità di gestire anche situazioni limite quando per esempio si renderà necessario continuare la fase decelerante sia in ingresso curva o piuttosto si deciderà di anticipare la ripartenza in uscita da una svolta secca. Tutte manovre svolte con la massima semplicità grazie anche al buon grip offerto dai pneumatici downlop di primo equipaggiamento. Durante la prova la nostra Yamaha ha richiesto circa un litro di benzina ogni 32 chilometri. Questa R3 prova ad innalzare il comfort in città contenendo il calore del suo bicilindrico mai fastidioso nemmeno dopo diverse soste al semaforo. E' sicuro? L'altezza della sella ridotta, le quote ciclistiche agili, la modulabilità dell'impianto frenante dotato ovviamente di ABS e gli Sportmax di primo equipaggiamento la rendono una moto intuitiva e facile. E se solo le sospensioni fossero più efficaci si innalzerebbe ulteriormente il livello di sicurezza attiva. Quanto costa? Nonostante la piacevolezza del bicilindrico e la carenatura completa questa Yamaha rimane una delle protagoniste più a buon mercato del suo segmento. Per metterla nel box occorrono infatti 5790 euro franco concessionario. Un prezzo adeguata alla qualità generale della moto che immaginiamo potrà fungere da stimolo all'acquisto. Difetti? Potremmo filosofeggiare sull'abbondanza di plastica soprattutto nella parte interna del cupolino ma a nostro avviso il neo principale di questa R3 rimane la qualità delle sospensioni non perfettamente allineate a quelle della moto. La consiglieresti? Immagini in sella questa Yamaha i neofiti dal carattere più sportivo o magari le ragazze in cerca di una moto con semimanubri facile nella conduzione o piuttosto gli ex smanettoni in vena di rientro. Per trovare potenziali concorrenti meglio muovere verso Matigofen ed incontrare la monocilindrica KTM RC390 o piuttosto dirigere verso il sollevante dove ad incontrarci troveremo la Kawasaki Ninja 400 e la nuova Honda CBR 500R.